Dopodiché sono d'accordo, collega Mendola e anche per gli altri che lo hanno detto, sul fatto che la cosa più seria in assoluto che noi possiamo fare in questo momento è lavorare per trovare, per mettere in campo un'azione concreta e che abbia una tempistica definita per la soluzione della crisi israelo-palestinese. Perché questo è l'unico modo che abbiamo, non solo per risolvere, dalle crisi può sempre nascere anche un'occasione per risolvere un conflitto che ci trasciniamo, come sappiamo, da decenni, ma anche per svelare il blef di Hamas che si copre dietro la causa palestinese per fare una cosa che con la causa palestinese non c'entra nulla e della quale i civili palestinesi e perfino le istituzioni palestinesi sono vittime, esattamente come tutti noi. Ora però dov'è che la questione diventa complessa? Ho sentito in diversi interventi, collega Bonelli, c'è un detto che dice la verità viene sempre dopo il ma. Perché certo, condanniamo tutti Hamas, ma. E qui credo che bisogna fare un supplemento di riflessione, collega Bonelli, anche qui beato chi ha tutte le risposte in tasca. Chiaramente io ho ribadito questa mattina che i civili sono civili, di qualsiasi nazionalità siano, in qualunque terra vivano, e che la differenza tra quello che fa un'organizzazione come Hamas e quello che deve fare uno Stato è che uno Stato non basa la propria risposta su una vendetta, su un sentimento di vendetta, che deve commisurare la sua forza, che deve stare nel diritto internazionale. Sono d'accordo su quello che si diceva sul diritto internazionale. Però questo è purtroppo un tema molto spinoso. Perché? La striscia di casa è un lembo di terra dove vivono circa due milioni di persone e dove i miliziani di Hamas si nascondono sottoterra.